Nelle ultime ore le squadre ANAS sono impegnate nel garantire la transitabilità e la sicurezza, con mezzi sgombra neve e spargisale, lungo i tratti interessati dalle precipitazioni nevose. L'ondata di maltempo ha interessato soprattutto le tratte di montagna, in particolare la statale 108 bis nel territorio di Rogliano a Cosenza, il tratto dell'altopiano Silano lungo la statale 107 Silana Crotonese a Cosenza e lungo la 572 di Monte Cucco e Monte Pecoraro. Ex strada statale 110, a Serra San Bruno, Vibo Valencia. ANAS ricorda che fino al 15 aprile è in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall'obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada. ANAS, società del polo infrastrutture del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, ricorda che quando guidi, guida e basta. No distrazioni, no alcol, no droga, per la tua sicurezza e quella degli altri. Per una mobilità informata, l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione Vai di ANAS, disponibile gratuitamente in App Store e in Play Store. Il servizio clienti pronto ANAS è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800 841 148. Grazie.